La prevenzione ai tempi del coronavirus, presidi sanitari come mascherine e amuchina ormai introvabili e su cui si consuma una delle pagine più nere delle nostre cronache, con prezzi che continuano a lievitare in una sorta di mercato parallelo e online. Anche se in campagna non c'è ancora alcuna emergenza, in farmacie e supermercati non si trovano più amuchina per disinfettare le mani. Ecco come realizzarne una fai-da-te in casa in sicurezza secondo l'OMS, come suggerisce il farmacista Carmine Capozzi che ha deciso di informare clienti e cittadini anche a mezzo social. Vista la penuria di questi presidi e soprattutto del gel igienizzante ho pensato semplicemente di offrire un'alternativa che sia facilmente preparabile a casa. Per un litro di soluzione è sufficiente utilizzare 833 ml di un alcol etilico con un grado superiore ai 90 gradi, utilizzare 42 ml di acqua ossigenata, 15 ml di glicerolo e poi ottenuta questa soluzione aggiungere quanto basta per un litro di acqua distillata. In mancanza di questa si può tranquillamente far bollire l'acqua e lasciarla poi ritornare a temperatura ambiente. Una soluzione che ci garantisce un'ottima copertura e può essere utilizzata anche nelle scuole visto che questa è la richiesta più pressante che ci stanno facendo. In questi momenti c'è da fare fronte comune, certamente non vere e proprie operazioni di sciacallaggio.